Ritorna la trasmissione sportiva Nebrodi in campo e si occuperà dei campionati di promozione prima e seconda categoria. Il rotocalco settimanale è un gradevole contenitore composto da un mix di ingredienti, immagini delle gare, approfondimenti, intervista a caldo con i protagonisti, curiosità e dibattiti con gli ospiti in studio. Spazieremo a 360 gradi all'interno delle squadre dell'Interland Nebroideo e non solo.